Stefano De Martino e Demma Marrone di nuovo insieme. Sembrerebbe di sì, almeno stando a quel che racconta Pomeriggio 5. Nel salotto tv di Barbara D'Urso due paperazzi hanno fatto rivelazioni scottanti sul ballerino e la cantante, che hanno già fatto coppia quando erano d'amici, prima che arrivasse Belen Rodriguez a soffiare il napoletano all'artista Salentina. A Pomeriggio 5 i fotografi non hanno detto esplicitamente che si tratta di Emma Marrone e di Stefano De Martino, hanno parlato, però, di due personaggi molto social e molto talent. Loro li hanno visti insieme molto intimi. Hanno anche aggiunto, però, che manca la foto definitiva, cioè quella del bacio. E' stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che, ospite di Carmelita, ha fatto 2 più due e riconosciuto nelle parole dei due paparazzi Stefano De Martino e Emma Marrone. Ciclicamente si è sempre parlato di possibili ritorni di fiamma tra il 27enne e la 33enne. Ora c'è chi sottoscrive che starebbero di nuovo insieme e aggiunge, questo sarà lo scoop dell'estate 2017 che farà parlare i fan per moltissimo tempo. Non rimane che attendere e stare a vedere cosa accadrà.